Ciao a tutti, quando lo lascia andare e non lo cerchi? In questo video voglio spiegarti cosa succede quando lo lascia andare o la lascia andare e non lo cerchi. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di un video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco, seguimi su Massimo Tremasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo tra quattro livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema, quando lo lascia andare e non lo cerchi? Allora, quando è che lascia andare una persona e non la cerchi? Quando questa persona, diciamo, sia uomo che donna, non si comporta in modo, direi, scorretto nei tuoi confronti. Comportarsi in modo scorretto cosa vuol dire? Che si comporta senza, diciamo, senza darti le giuste attenzioni. che si comporta male nei tuoi confronti, che si comporta in modo, diciamo, completamente destrutturato, che si fa i cazzi suoi, che va con altri, uomini o donne che siano. Insomma, che non metti in atto dei comportamenti rispettosi. E la mancanza di rispetto nell'ambito di una relazione è fondamentale. È fondamentale e tu non devi pensare di dover dipendere da questa persona. Perché se pensi di dover dipendere da questa persona, beh, diciamo che sbaglierei di grosso. Avrai grandi problemi. Perché nel momento in cui tu pensi di dover dipendere da una persona, ti sentirai completamente destrutturato. Ti sentirai completamente, diciamo, bisognoso. Ti sentirai completamente dipendente. E non è necessario avere degli atteggiamenti di questo genere. Non è assolutamente necessario essere, diciamo, dipendenti da qualcuno. Perché se dipendi da qualcuno non raggiungi nessun risultato importante, fondamentale nella tua vita. Bisogna essere totalmente indipendenti. Questo è il concetto fondamentale. E quindi quando una persona si comporta in questo modo nei tuoi confronti, devi semplicemente dare indifferenza. Non ci deve essere né rabbia, non ci deve essere né rancore, né risentimento. Ma devi semplicemente lasciare andare quella persona. Cosa vuol dire lasciare andare? Vuol dire che non la prendi più in considerazione. Non valuti più l'opzione di avere una relazione con questa persona. Soprattutto non stai a dedicare le pensiere. Soprattutto non stai a dedicare le attenzioni. Ma la lasci, tra virgolette, nel suo brodo. E questo è quello che devi fare. Pensa a quando stavi bene, a come stavi bene, prima di conoscere questa persona. Questo è un fatto fondamentale, su cui molte persone non riflettono. Perché il meccanismo è questo. Tu stai bene di tuo, magari singolo, così. Incontra una persona, inizia una relazione. Poi per un motivo o per l'altro questa persona ti fa girare i coglioni, fondamentalmente. E tu inizi a stare male. Inizia a stare male e poi una sorta di attaccamento verso questa persona. Ecco, questo attaccamento, cosa significa? Significa che, diciamo, il tuo equilibrio è scompensato. Significa che non sei più in equilibrio, non sei più in armonia, non stai più vivendo la relazione che vorresti vivere. Ti senti completamente scompensata, ti senti completamente scompensato. E di fatto questa persona, il pensiero di questa persona, poi soprattutto, va a destabilizzare quello che è il tuo equilibrio. Ecco, questo devi assolutamente evitarlo. L'unico modo per evitarlo è lasciare andare questa persona. Lasciare andare vuol dire non inseguirla, non cercarla, non stare lì a rimuginare nei confronti di questa persona. Non stare a darle, diciamo, nessun valore, non stare a darle nessun significato. Lasciarla completamente andare e farti completamente gli affari tuoi. Fondamentalmente questo è il concetto di fondo. È la cosa fondamentale che tu dovresti valutare, che tu dovresti prendere in considerazione. Perché, secondo me, il concetto base è questo. Se non diamo rispetto a noi stessi, non potremo mai essere felici. E andremo a imbischiarci, diciamo così, in comportamenti e in situazioni sempre più deletere. Nel momento in cui tu dai indifferenza a una persona, nel momento in cui smetti di cercarla, smetti di interagire con questa persona, va a recuperare il tuo equilibrio. Ma poi la cosa importante è che se questa persona si manifesta, non è che devi essere lì pronto, diciamo, a, come dire, ad accoglierla. Perché se no, altrimenti non è che cambierà molto. Cioè, alla fine starei comunque male. Quindi, quando questa persona si manifesta, tu devi continuare a dare indifferenza. Questo è il concetto di fondo. Continuare a non prendere in considerazione il fatto che questa persona, diciamo, sarebbe manifestata. Perché tanto tieni presente che le situazioni cambiano poco. Le persone che non ti dimostrano, che si dimostrano irrispettose e poi si fanno vivere, lo fanno soltanto per una questione di attaccamento, quando pensano di aver perso il giocattolino, quando pensano di aver perso la situazione che gli interessava e come poter sfruttare in qualche modo la situazione. Per cui devi semplicemente, come dire, ma non serve neanche fare un no contact, serve semplicemente lasciare andare, dare indifferenza e poi eventualmente soltanto a fronte di dimostrazioni inequivocabili di interesse, se tu potrai in qualche modo dare, diciamo, solo in funzione di, diciamo, situazioni che ti possono piacere, solo in funzione di momenti che possono essere per te interessanti, tu puoi, diciamo, dare di nuovo attenzione a questa persona. Ma questa persona deve dimostrare però delle cose per te, deve dimostrare di avere un interesse nei tuoi confronti, deve dimostrarlo inequivocabilmente, senza nessun, diciamo, senza nessuna, come possiamo dire, certezza. Devi aspettare che faccia degli investimenti su di te, altrimenti continuerai così. Sì, è una situazione che finisce, è una situazione che non è più presente e quindi basta, amen, la situazione è finita e, come dire, rivederci e grazie. Purtroppo la nostra vita è fatta da tanti momenti e se tu vuoi, come dire, mantenere attiva, come dire, il tuo benessere, vuoi mantenere attiva la tua vita, devi guardare oltre. Questo è il concetto di fondo. Purtroppo gli attaccamenti alimentati, perché sono i nostri pensieri che li alimentano, sono deleteri. Invece quando lasci andare una persona e non la cerchi, inizia a sentirti libera, inizia a dare uno stimolo forte alla tua serie emotiva, inizia a insegnare alla tua serie emotiva ad essere la persona giusta, e inizia a valorizzare te stessa o te stesso. Quindi iscriviti al canale, seguimi su Instagram, seguimi su TikTok, Instagram Massimo Tremasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Scegliendo, abbonarsi è facile, basta che vai nella non-page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!